E intanto in Abruzzo scatta l'allerta meteo, vento forte previsto per il pomeriggio con abbassamento delle temperature. A Pescara il sindaco Carlo Masci ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura dei cimiteri, dei parchi, dei giardini pubblici e riserve. Ma cosa sta per accadere in Abruzzo dal punto di vista meteorologico? Lo chiediamo subito in diretta al tecnico meteorologo Giovanni De Palma. Buon pomeriggio Giovanni, com'è la situazione? Ci dobbiamo preoccupare? Sì Gigliola, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Un'imminente peggioramento già in atto anche sulla nostra regione con forti venti dei quadranti settentrionali, soprattutto lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa. Non si escludono raffiche localmente superiori ai 80-100 km orari. Con il vento ci saranno anche degli annuvolamenti, dei rovesci e dei temporali, occasionalmente di forte intensità. Temperature insensibili e diminuzione. Vediamo subito le immagini dal satellite. Ecco la perturbazione di origine nordatlantica che si avvicina alla nostra regione. Sta già interessando il Terramano e il Pescarese con forti venti in rinforzo che nel corso del pomeriggio si estenderanno anche nel Chietino e sul vicino Molise. Temperature in diminuzione, così come si nota anche da questa carta del tempo. Aria fredda che si riverserà nel pomeriggio sera sulla nostra regione. Dopo il Garbino, dopo il Libeccio e temperature molto elevate, le temperature subiranno un generale sensibile calo anche di oltre 12-14 gradi rispetto ai valori che si registrano in queste ultime ore. Ecco il quadro previsto. Per il pomeriggio vedete raffiche di vento molto forti sul versante adriatico, già in atto, ripeto, nel Terramano e nel Pescarese in estensione verso il Chietino. Temperature insensibili e diminuzione. Motondoso in generale aumento con mareggiate e possibilità anche di temporali localmente di forte intensità. I rovesci si estenderanno poi localmente anche verso il Molise, accompagnati da un generale calo delle temperature. Ecco le raffiche di vento previste per le prossime ore. La colorazione rossa indica raffiche localmente superiori a 80-90 km orari. Le temperature stamattina vedete al di sopra delle medie stagionali. Nel corso del pomeriggio sera drastica diminuzione delle temperature che si porteranno ben al di sotto delle medie stagionali. Ma la diminuzione sarà particolarmente sensibile sul settore adriatico, dove fino a poco fa soffiava il garbino. Le temperature erano sopra i 30 gradi. Gigliola, quindi attenzione al vento forte, perché le raffiche potrebbero essere davvero molto violente lungo le aree costiere, sulle zone collinari prossime alla costa. È tutto, a te la linea. Grazie.